Per rinunciare al metano russo che Putin, pur di non vendere agli alleati di Kiev, preferisce bruciare, l'Unione Europea sperimenta da oggi il nuovo regolamento sulla cosiddetta austerity del gas. Le immagini satellitari immortalate dalla NASA mostrano le fiamme in partenza nella stazione di compressione di Portovaya, di proprietà di Gazprom. Dunque l'UE non può far altro che riempire le riserve e razionare le scorte. Se la Germania rischia di dover chiudere fabbriche e imprese, non tutti i paesi europei dovranno tagliare i consumi del 15% entro il prossimo marzo, come previsto dal nuovo regolamento. Il traguardo è facoltativo e con ampie deroghe. Per Spagna, Portogallo e Insulari e per gli stati legati alla rete elettrica russa, ovvero i baltici, è prevista un'eccezione al target, come pure per l'Italia. Per centrare almeno l'obiettivo edulcorato, fissato per Roma almeno 7% dei consumi, il piano Cingolani negli uffici pubblici e nelle abitazioni private. Nel prossimo inverno e per quelli a seguire, temperatura da 20 gradi a 19 e conseguente riduzione dell'accensione degli impianti di un'ora al giorno. Berlino già lavora un piano per il prolungamento delle centrali a carbone e anche la linea italiana per risparmiare metano, punta al rinvio della chiusura degli impianti esistenti e all'accelerazione su rinnovabili e soprattutto rigassificatori. Due sono le navi galleggianti comprate da SNAM, una a Piombino, da attivare entro il primo trimestre 2023, l'altra a Ravenna, operativa nel 2024. In risposta al piano europeo sul risparmio energetico, Mosca ha tagliato oggi anche i flussi sull'oleodotto Drusba verso l'Europa, impatto prevalente su Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.